amici benvenuti anzi ben ritornati in questo nuovo video oggi riportiamo un format tra quelli che vi piace di più un dietista reagisce ma non ai full day of eating bensì è una fonte incommensurabile di scienza che sono i tiktok in realtà adesso ultimamente non sto utilizzando più tiktok cioè lo utilizzo soltanto per caricarci video ma lo evito un po come la peste quindi non ho salvato nessun tiktok ma ho salvato alcuni reel che tra l'altro sono molto più comodi perché me li mandate voi stessi tramite idm quindi io poi non li guardo del tutto cioè non li guardo per intero guardo giusto i primi secondi per capire di cosa un po si tratta se è una roba interessante spesso si lo salvo così dico che ci reagirò poi ad un prossimo episodio adesso è proprio giunto il momento di vedere un pochettino questi reel che mi avete mandato e poi ci lasceremo trasportare dall'algoritmo verso chissà quale fonte di conoscenza universale io vi invito sempre a mandarmi questi reel questi shorts tramite idm su instagram o come preferite così che poi ho tanto materiale a cui reagire appunto in questo format ed è un po il materiale che scegliete voi stessi allora questo qui c'ha 4000 like e 142 commenti dici che l'olio di cocco mi può dare quando voglio dimagrire perdere peso accelerare il mio metabolismo io questa storia dell'olio di cocco è sempre più vecchia ma sempre attuale fondamentalmente mi toglie quasi di immediato il senso di fame mi dà un senso di sazietà ok come qualsiasi alimento che viene consumato l'olio di cocco tra l'altro è molto calorico i grassi fondamentalmente ci danno tanta sazietà ci danno sazietà anche per più tempo non so se vi è mai capitato di ma certamente sì di non seguire la dieta mangiare fuori non mangiare nemmeno delle porzioni abbondanti ma poi non avere appetito per il resto della giornata magari proprio perché avete mangiato qualcosa di più grasso di più unto che probabilmente vi ha tenuti sazi per più tempo il corpo si regola molto in base a quello che gli diamo da mangiare non vuole prendere peso all'infinito quindi nel momento in cui mangiamo più grassi ci terrà più sazi perché grassi sono molto calorici contiene grassi e catena media sono grassi che il corpo non immagazzinerà ma consumerà come energia immediata pronta da spendere effettivamente i grassi mct ovvero i grassi a catena media hanno un metabolismo differente che li rende facilmente più assorbibili e sicuramente più utilizzabili però il fatto che questi vengano immagazzinati come grasso oppure vengono utilizzati a scopo energetico dipende esclusivamente dal nostro bilancio energetico ovvero se io sono già mille calorie in surplus calorico andare a prendere acidi grassi a catena media non è che fa sì che questi vengono utilizzati anche se fossero utilizzati qualcos'altro verrebbe utilizzato poi per sintetizzare accumulo adiposo in un certo senso se invece sono in ipocalorica utilizzo questi grassi ed effettivamente sì li utilizzo prima mi danno energia prima aumenta ed eleva il mio metabolismo attraverso la termogenesi ossia aumenta un po la temperatura corporea e questo diventa indispensabile in persone che hanno un ipotiroidismo o ipotiroidismo sul clinico e fanno fatica ad avere una temperatura corporea sufficientemente alta certo perché invece andare a compensare l'ipotiroidismo con la terapia sostitutiva ormonale quindi andare a prendere semplicemente l'ormone tiroideo no non è un'opzione fondamentalmente ragazzi chi ha l'ipotiroidismo in genere non ha grossi problemi legati al peso non ha difficoltà a perdere peso perché l'ipotiroidismo viene semplicemente compensato da una terapia il problema è quando l'ipotiroidismo non è diagnosticato o meno ormone tiroideo sicuramente il mio metabolismo rallenta e non compensa in nessun modo ma diciamo che lì sì il metabolismo rallenta ma quello è soltanto uno dei problemi perché avere un ipotiroidismo scompensato dà già tutta un'altra serie di sintomi e fastidi però va bene dai prendiamo l'olio di cocco che sicuramente ci alza il metabolismo ti accorgi quando ne hai assunto troppo perché ti darà una leggera diarrea un buon modo per scoprire se ne ho assunto troppo effettivamente tutti i passi di ripristino del metabolismo per perdere peso ripristino metabolico blocco metabolico metabolismo lento non è proprio scienza pura fondamentalmente ripristinare il metabolismo tramite l'utilizzo dell'olio di cocco come alimento magico men che meno va bene passiamo avanti vediamo questo qui cosa mangiare prima di una gara sportiva oddio questo qui non l'ho visto però ho visto che l'hanno pubblicato in tantissime persone infatti a 10.000 mi piace 394 con meno lo sportivo quindi gli diamo solo grasso prima del della competizione e no abbiamo sempre detto che in realtà il grasso non vada proprio assunto prima della competizione anzi prima dello sport e dell'attività sportiva ma è meglio tenersi su delle altre fonti energetiche prima della competizione bisogna di mangiare cibi che si bruciano cioè diamo fuoco a questi cibi fondamentalmente prima di una competizione si prende l'acido a catena media cioè l'MTC l'acido non era tra l'altro MCT cos'è l'olio MTC media trigliceri di catena comunque di nuovo olio di cocco questo qua dice di prenderlo prima della gara sportiva è un grasso che si brucia immediatamente non viene accumulato si assimila già direttamente dallo stomaco e va direttamente nelle cellule dove può essere utilizzato viene utilizzato proprio quando si hanno alcune problematiche intestinali che non permettono l'assorbimento completo dei grassi viene assorbito esattamente come il fruttosio viene assorbito ma il fruttosio fondamentalmente è calorico anche se ha un metabolismo differente rispetto al glucosio ha 4 calorie per grammo e queste incidono nel nostro bilancio energetico possono farci ingrassare anche l'oro anche il fruttosio può farci ingrassare è un fornitore di energia immediata quando arriveranno prima le review poi le meta analisi e le revisioni sistematiche poi le linee guida che ci diranno che gli sportivi performano meglio grazie al consumo di olio MCT invece che di carboidrati allora credo che cominceremo ad utilizzarlo anche noi fondamentalmente fino ad allora si sta cercando semplicemente di fare scienza nella vostra testa ecco cosa mangio un giorno per perdere grasso quello credo che sia burro e quella cosa è un pezzo di carne cruda l'allenamento inizio la mia giornata con un burrocino questo è come la pubblicità che c'era ve la devo fare vedere il burro è buono e ti fa bene poi abbiamo scoperto che effettivamente il burro è pieno di acidi grassi saturi e fondamentalmente questo aumenta nel rischio cardiovascolare inizio sempre a mangiare prima i grassi e poi le proteine ho preparato un po' di carne macinata di bovino e l'ho mangiata cruda perché fondamentalmente non abbiamo paura dei patogeni e di prenderci un'intossicazione alimentare che è sto colesterolo? ho capito che il colesterolo è una molecola fondamentale per il nostro corpo tanto che se non lo mangiamo se lo fa da solo e no vabbè anche se ce lo mangiamo se lo fa da solo il corpo e il colesterolo quello che ci dicono di curare è il colesterolo cattivo LDL che però è un numero e non ci dice quanto siamo in salute o a rischio di infarti è un numero che ci dice quanto ne abbiamo nel sangue più è alto abbiamo visto che statisticamente chi è il colesterolo più alto ha un rischio cardiovascolare più alto questa è la fogliazione che viene fatta in pratica curiamo un numero non una malattia che vuol dire? lo studio di David Feldman e Nicholas Norwitz su LDL alto nelle persone che mangiano tanti grassi saturi e pochi carboidrati conferma che l'LDL non è cattivo e che dobbiamo valutare il rapporto trigliceridi HDL con trigliceridi inferiore a 80 avere l'HDL così tanto alto avercene e poi modificare l'HDL con la dieta non è così tanto fattibile cioè l'HDL è molto più genetico rispetto al colesterolo LDL che invece è molto influenzabile con l'alimentazione per questo che io mi mangio solo il burro? mamma, nonna e usatelo sto burro va bene non va escluso il burro però voglio dire mangiarselo a morsi non mi sembra ideale c'è una cosa che dite sempre noi palestrati del tipo sei sempre lì con le tue vaschette riso e pollo ma non hai voglia di un po' di dolce? no! io adoro il mio riso e pollo e vabbè questo qua diciamo che è un suo gusto personale ma sicuramente William non dovrebbe costituire il 100% della tua dieta anche se lo adori l'alimentazione e anche psicologia ci sono delle motivazioni per cui degli alimenti ci piacciono più di altri e ci sta che magari lui in costosa è molto fortunato al dato che i suoi alimenti preferiti coincidono proprio con quelli che magari lo fanno restare più a dieta bisogna ugualmente variare l'alimentazione ok sei dal nutrizionista e gli spieghi perché la sera non riesce a rinunciare al pane io soffro di attacchi di pane purtroppo che ogni tanto mi colpiscono dei pane ah è una cosa brutta veramente guarda madonna mia quindi a quest'uomo non si possono togliere i carboidrati grassi quali e come mangiarli? gli oli, le verdure, il pesce, la frutta secca questi alimenti sono gli alimenti che contengono maggiormente una bella varietà di grassi mescolandoli tutti tra di loro noi riusciamo a formare delle membrane perfette perché li accumuliamo? perché iniziamo a mangiare solo un tipo in che senso? non creiamo quella varietà di grassi che si possono poi mescolare per fare membrane e allora che succede? che questi grassi li accumuliamo perché si accumula e dici vabbè adesso aspettiamo vediamo se questo stupido finisce di mangiare così quindi noi mangiamo i grassi mangiamo solamente una tipologia di grasso e li accumuliamo in attesa che mangiamo anche altre varietà altre tipologie di grassi così poi cambiamo questo accumulo adiposo in membrane fondamentalmente sane ok fantascienza va bene quindi qui non c'entra ovviamente il bilancio energetico qui l'unica cosa che c'entra è la varietà attenzione che poi la promozione di uno stile alimentare più vario con diverse fonti di grassi anche perché alcuni grassi effettivamente sono essenziali come gli acidi grassi omega 3 quindi effettivamente essere più vari è utile al nostro organismo tutte le malattie insorgono e proliferano in ambienti acidi e infiammati proprio una questione banale di chimica e biochimica se andiamo a modificare ingerendo molecole giuste l'ambiente dell'organismo a quel punto rendiamo davvero difficoltosa la proliferazione di patologie di tutti i tipi i cibi più dannosi in assoluti che vanno tolti subito il latte di origine animale certo ovviamente anche delle società di osteoporosi che ci dicono che il latte in realtà non è un alimento acidificante la chiave invece è un'altra e ce la sta dando lei i formaggi soprattutto quelli stagionati i salumi va bene come consiglio ma la premessa che si basa sulla dieta alcalina non è proprio scienza pura perché andare a controllare il pH del nostro organismo è una cosa impossibile ci sono tantissimi sistemi tampone che lo regolano precisamente quindi non è la dieta quello che scegliamo di mangiare che rende il nostro organismo più acido più basico però va bene siamo nel 2024 e ancora si sentono dire le stesse cose da anni e anni e anni hai spesso voglia di mangiare biscotti o altri cibi commerciali la sera dopo cena? ti assicuro che non sei l'unica e anche a me ad esempio capita tantissimo alla fine uno diventano dieci si può capitare che uno diventano dieci se non si ha un controllo parte infatti tutto da quando andiamo a fare la spesa preferisco non avere questo tipo di cibi in casa perché so che ho difficoltà a resisterli effettivamente in ogni caso se non si vuole mangiare un alimento per esempio se non si vuole per esempio sgarrare la dieta in un certo senso no non si vuole mangiare male il primo passo sta nel fare la spesa correttamente quindi evitare proprio di comprare alcuni alimenti che non vorremmo mangiare anche perché averli in casa poi è una tentazione nel mangiarli perché c'è proprio un trigger anche visivo in un certo senso cioè magari non ci sto proprio pensando a quell'alimento vado in dispensa a vedere cosa posso mangiare per spuntino e vado a vedere proprio piazzato lì non so la tavoletta di cioccolato o il biscotto particolare che mi piace tanto e dirotto su quella lì ma dieta si possono bere le bevande zero? assolutamente sì hanno completamente zero calorie e tutte quelle sostanze che dicono che sono nocive sono nocive e fanno male al corpo se ve ne bevete tipo 10 litri al giorno cioè non capiterà mai problemi quindi sono un ottimo compromesso per contrastare la fame e per aiutarvi a bere se fate fatica con l'acqua ovviamente anche tè tisane se non li zuccherate sono il top se vi aiutano a bere durante la giornata io li preferisco un sacco sia al mattino che alla sera tardi come ultima cosa prima di andare a dormire ovviamente non zuccherate ma piuttosto mettete del dolcificante non è errato il concetto di bere più tè e più tisane per consumare più acqua anche se va tenuto in considerazione che spesso le tisane sono drenanti quindi questo può farci addirittura espellere più liquidi che talvolta può essere ricercato talvolta invece non è una cosa che andiamo a ricercare proprio attivamente in ogni caso utilizzo di dolcificanti in dieta sì, consumo sì, non c'è niente di male in un certo senso e soprattutto come dice lui consumare una quantità dannosa per il nostro organismo vorrebbe dire consumarne veramente tante tanta tanta quello che poi ha detto anche è che aiutano a contrastare la fame quindi io ho fame, bevo una bella dolcificata e questo mi permette in un certo senso di contrastare di placare questa fame in realtà non sempre è così ho pubblicato proprio uno short ultimamente in cui appunto leggevo i risultati di una meta-analisi che diceva come in altri studi si era visto che la differenza tra l'intervento con i dolcificanti e invece il consumo di zuccheri era mediamente soltanto di 0.8 kg quindi in realtà quello che ci voleva dire, diciamo, la meta-analisi è che anche consumando dolcificanti anziché gli zuccheri e quindi meno calorie comunque non si perdeva peso probabilmente questo può essere legato a un maggiore consumo degli stessi alimenti perché pensiamo che non essendo zuccherati ne possiamo usare di più probabilmente è indagato anche il fatto che questi dolcificanti effettivamente ci facciano venire più fame quindi magari momentaneamente pensiamo che ce la sta plagando in realtà poi ci dà più craving di cibo e più craving anche di zuccheri appunto perché un'altra ipotesi è che non essendo calorici questi zuccheri non ci diano la gratificazione al pari dello zucchero reale, del saccarosio in un certo senso quindi sembra che ci soddisfino ma in realtà no e poi andiamo a cercare in un certo senso quelli veri il suggerimento di bere di sfruttare queste bevande zero a dieta in questo punto immagini di dieta ipocalorica non lo condivido non lo condivido perché comunque si tratta di una cattiva abitudine la buona abitudine è quella di bere prevalentemente acqua senza dizionarci niente l'inbulk è una cagata pazzesca ecco qua, va bene guardati che hai paura di mettere 10 grammi in più di carbo sennò ti vedi un filo velato e non senti l'addome ma te è ticco eh ma il bodybuilder deve essere il bodybuilder tutto l'anno Ludo no, devi esserlo su un palco eh vabbè però si sta riferendo sicuramente appunto alla categoria dei bodybuilder agonisti che quindi hanno proprio l'obiettivo ultimo di essere nella migliore condizione possibile appunto sul palco e se ne fregano di come possono apparire durante l'anno la maggior parte delle persone immagino anche chi sta quando questo video non rientra in questa categoria però non vedo perché non bisogna mirare ad essere puliti o perlomeno il più possibile puliti durante l'anno per poi faticare meno nella fase di cut rispetto invece a sporcarsi e quindi non fare l'inbulk ma chiamiamolo dirty bulk ingrassare poi andare a fare una mega fatica andare a perdere più muscoli nella fase successiva la frase corretta è un bodybuilder deve essere atleta tutto l'anno e l'atleta non lo fai con le fotine su Instagram dell'addome tirato l'atleta lo fai in sala spingendo, allenandoti migliorando la tua performance quindi viene da sé che l'alimentazione che è in off-season deve essere funzionale a quel che ti fa migliorare la performance ok sì ti fa aumentare sicuramente la performance l'alimentazione senza ombra di dubbio perché se vado a mangiare un surplus calorico aumenterò la mia performance ma fino a un certo punto in un certo senso cioè non è che mi servono 100.000 calorie in eccesso per spingere di più non è che se io sono forte riesco a sollevare 100 kg di panca ipotesi se mangio adesso 1000 calorie in più ne sollevo 120 kg di panca solleverò 120 kg di panca quando peserò di più e quindi quel peso il rapporto al mio peso corporeo effettivamente sarà ridotto quindi sì sto migliorando ma poi non così tanto quando si aumenta il peso c'è poi da chiedersi se effettivamente si sta diventando più forti perché devi rapportare il carico che stai sollevando in più con anche il tuo peso corporeo nel caso in cui stai pagando un bulk già in una norma calorica vado ad ottimizzare la mia performance la performance viene penalizzata quando sto in ipocalorica perché magari ne ho di meno meno benzina e non riesco a recuperare in maniera ottimale ma nel momento in cui non ho più deficit calorico questa penalità sulla performance non si ha più e non è che puoi stare in surplus media chissà che boost delle performance una persona dovrebbe stare sulle 50-60 calorie per chilo di peso corporeo sono esattamente un po' meno del doppio perché in genere si indicano 30-35-40 quindi 50-60 chilocalorie per chilogrammo di peso corporeo sono abbastanza come picco dell'off season una persona che pesa 80 chili sono 4.000-4.500 calorie eh ma non possiamo dire che bisognerebbe stare a queste calorie tutti perché ci sono delle differenze fondamentalmente anche nel metapolizio basale su base genetica c'è chi su base genetica è più parsimonioso quindi brucia meno calorie e c'è chi invece è più dispendioso e brucia più calorie quindi queste persone dovrebbero mangiare in maniera differente non possiamo dare un range calorico io tra i miei pazienti c'ho persone che fanno bulk a questi livelli qui 2.500-4.000 anche sopra le 4.000 calorie c'ho dei pazienti che fanno bulk a 2.500 calorie non è che però io potevo applicare a priori la formuletta e in ogni caso in entrambi i casi tutti e due i pazienti stanno facendo l'in bulk nel senso stanno cercando di mantenersi il più puliti possibile non stanno mangiando 4.000-4.500 calorie per mettere su massa quello che prendiamo prendiamo come viene viene e poi andare a ridurre il peso corporeo di tanti chili per andare a definire e perdere quello che viene viene perché dobbiamo dimagrire e alla fine speriamo poi in un certo senso che il rapporto sia stato positivo tra massa e grasso in bulk e in definizione quello che cerco sempre di evidenziare è che se devo andare a mettere 10 chili di cui poi magari 6 sono effettivamente di muscolo e 4 sono di grasso mentre poi nel momento del cut vado a perdere 7 chili in cui una buona parte di muscolo e una parte anche di grasso ovviamente avrò una composizione corporea magari migliore ma questa stessa composizione corporea non l'avrei potuto ottenere con un delta più piccolo di peso quindi con anziché prendere 10 chili prenderne 5 e poi tornare dietro di 2 oppure addirittura fare semplicemente il più 3 in maniera quanto più lenta possibile sicuramente questa opzione è un pochettino più fisiologica e soprattutto ci evita una ipercalorica estrema che attenzione diversi lo sanno non è piacevole e non è più piacevole di un'ipocalorica a seguire questa ipercalorica estrema in cui ho imparato anche a mangiare tantissimo in un certo senso mi sono anche abituato a mangiare così tanto poi devo andare a tagliare le calorie in maniera eccessiva andare a fare una ipocalorica talvolta non estrema ma comunque in base a quanto mi sono abituato a mangiare poi sarà relativamente ridotto quindi andrò a mangiare prima 4.500 poi 2.500 2.000 calorie in meno praticamente la metà quasi e quindi non sarò mai in pace con la mia alimentazione un po' sarò in ipercalorica estrema un po' in ipocalorica abbastanza restrittiva quindi di base sto a dieta tutto l'anno e sto in una dieta sofferente tutto l'anno quando invece potrei avere un surplus moderato che mi permette di salire di peso se voglio salire di peso lentamente nel tempo facendomi mettere tanta massa muscolare limitando al più possibile la massa grassa così da evitare anche di fare queste ipocaloriche tutti gli anni che come sappiamo non ci fanno benissimo se ripetute però vabbè non pretendiamo di cambiare la scienza e soprattutto la scienza da bro vabbè io direi che con questo tiktok potremmo chiudere questo episodio spero che l'abbiate apprezzato fatemi sapere qui sotto con un commento cosa ne pensate di queste fonti di scienza che abbiamo visto se siete arrivati fin qui e questo video vi è piaciuto io vi lascio al precedente episodio che trovate qui e noi ci vediamo direttamente di là ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti